Della non edizione del premio Fausto Ricci è Monica Conesi La più importante, per un cantante vi dico, è la disciplina, perché senza disciplina, la disciplina nel piano fisico, di sapere cosa devi e non devi fare, cosa devi mangiare e non mangiare, cosa devi bere o non bere, eccetera, eccetera. C'è anche la disciplina dello studio, ogni giorno avere più passione per la donna. Cosè è appena uscito di prigione e incontra Carmen per la prima volta. Si è fatto tre mesi di galera e ha tenuto nascosto da tutti un fiore che nel frattempo è avvizzito, ma è un fiore che Carmen gli aveva gettato. E lui, durante tutta la sua prigionia, ha maledetto il destino per aver incontrato una donna del genere, ma alla fine ne è completamente innamorato e glielo dichiara Carmen. E lui, durante tutta la sua prigione, ha maledetto il destino per aver incontrato una donna. La professione uno non finisce mai di studiare. Uno sensato, un avvocato, un architetto non finiscono mai, non smettono mai di studiare. La professione uno non finiscono mai, non smettono mai. La professione uno non finiscono mai. La professione uno non finiscono mai. Il tuo soleil è parire l'esituale, chito al nasir sua vada. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Vivo a picchiare la moglie, ma non si è a ciò pari. Molto stimolante, molto divertente anche trovare delle persone molto simpatiche, molto disposte sempre a dare la mano. Devo dire che è stata una settimana molto molto profittosa anche dal punto di vista artistico. Che questa opera, il Don Pasquale, viene finalmente prodotta a Biderbo. Io ho sempre sognato che la città poteva esprimere le risorse adatte alla produzione di un'opera. Non ci si è mai riusciti. Forse abbiamo preso stavolta una stata buona. La produzione arriverà addirittura al Teatro Coccia di Noara e a Sassari. Quindi insomma i nostri ragazzi, i ragazzi che sono usciti, i talenti che sono usciti da questo concorso, avranno la possibilità di ben 14 recite dal 2020. Amici, adatta città, adatta città, adatta città, ecco, un coro local. Grazie a tutti